Io dico che finché noi discutiamo su dove faccio sbarcare immigrati clandestini raccolti da una nave delle ONG che si mette d'accordo con lo scafista, non ne usciamo. Tant'è che alla fine, benché io ho sostenuto le politiche di Salvini, continuano a sbarcare tutti qui. Quelli della 18 comunque sono arrivati qui. Ma sai che hanno fatto causa quelli della 18 a Salvini a Conte? Che è una cosa scandalosa, anche qui. Cioè noi ci ritroviamo, 41 immigrati che abbiamo accolto, attenzione, questi 41 immigrati della 18 che hanno fatto causa al governo italiano, noi li abbiamo accolti. Li stiamo mantenendo senza sapere se abbiano diritto a stare qui, che è un grande problema della politica migratoria italiana. E questi fanno causa al governo italiano perché non li abbiamo accolti abbastanza presto. 40-70 mila euro a persona hanno chiesto allo Stato italiano, sono somme che ci sono italiani che non hanno mai visto, perché noi non li abbiamo accolti abbastanza presto. Allora questo dice una cosa, che ormai siamo lo zimbello del mondo, ci ormai ci ridono proprio in faccia. Qui siccome noi abbiamo detto venite tutti qui, non vi chiediamo se avete diritto o non avete diritto, vi manteniamo a 37 euro e mezzo al giorno, vi troviamo lavoro, vediamo casa, nessuno vi chiede niente e faremo tutto quello che ci chiedete, la gente ci ha creduto.